La giornata nazionale in cui Coop fa l'iniziativa Dona la Spesa. Tutta Italia nei nostri centri c'è questa attività solidaristica per aiutare le famiglie bisognose del territorio. Quindi un'altra attività importante di attenzione di Coop verso la comunità e verso il territorio che ci ospita. Questa iniziativa secondo me è molto importante perché appunto ci sono tante persone bisognose ed è bello che ognuno di noi faccia qualcosa, anche qualcosa di piccolo, però di sicuro da parte di queste persone sarà molto apprezzato. Ci sono tante famiglie in difficoltà e noi siamo lieti di poterle aiutare con la collaborazione del comune di Beinasco. Raccogliamo appunto nei supermercati, vari supermercati, e poi distribuiamo personalmente i pacchi raccolti alle famiglie in difficoltà. Non lo facciamo a scopo di lucro, ma lo facciamo per aiutare il prossimo. Chi può donare poco, chi dona tanto, l'importante è che anche una cosina, tutti insieme si può fare la differenza. Grazie a tutti.